Aziz rivela una verità sconvolgente. Aziz recupera la memoria e improvvisamente rivela una verità sconvolgente. La madre di Unkar ha rivelato una verità improvvisa che ha portato una certa tranquillità nella tenuta degli Yaman. Al momento, tutti i membri della famiglia si trovano nel salotto e si godono un momento di relax. Demira è intenta nella lettura del giornale, mentre Unkar e Zuley ha conversano tranquillamente. La nonnina, come sempre, è seduta sul suo divano, intrattenendo conversazioni con i suoi fantasmi e partecipando sporadicamente alle discussioni con frammenti di frasi prive di senso o improvvisate canzoni senza motivo apparente. Prima di proseguire, ti chiedo di mettere mi piace e iscriverti al canale. Ora sveleremo una verità sconvolgente. Guarda il video fino alla fine perché scoprirai cose inimmaginabili. In quel momento, la famiglia sta vivendo un momento insolito, considerando le vicissitudini che hanno affrontato all'interno della casa. All'inizio, nessuno dei familiari presta molta attenzione, pensando che siano le solite fantasie della nonnina. Tuttavia, quando inizia a fornire dettagli precisi, l'attenzione di Unkar, Demira e Zuleyha cambia completamente, lasciandoli sbigottiti. Unkar è profondamente turbata dalla rivelazione delle situazioni che è stata costretta a vivere nel suo passato. Era stata costretta da due genitori insensibili e abidi che non si erano mai preoccupati della sua felicità, ma solo dei loro interessi economici. Questo ha distrutto i sogni di una giovane ragazza e un futuro diverso. Demira, ascoltando le parole di Aziz, è sconvolta, scoprendo una verità che mai avrebbe immaginato riguardo a suo padre. Guarda sua madre con stupore, rendendosi conto che l'immagine di una famiglia felice che aveva sempre avuto era basata su enormi ipocrisie legate al denaro. Calpestando la dignità e i sogni di una giovane ragazza. La nonnina, intanto, continua imperterrita nel suo racconto, trasportandosi mentalmente all'epoca in cui sua figlia Unkar era ancora una ragazza adolescente. Mentre narra, sembra quasi che quella giovane ragazza stia ancora parlando attraverso di lei, cercando di comunicare un messaggio cruciale a Unkar. Con voce piena di emozione, la nonnina avverte Unkar che il destino della sua vita è nelle mani dei genitori, che si opporranno ferocemente a qualsiasi amore che considerino sbagliato. Con categorica fermezza, le vietano di proseguire nella sua illusione e di concludere la sua storia d'amore con Ariraman, poiché ritengono che non le garantirebbe alcuna sicurezza o stabilità. Il padre di Anko ha persino preso la decisione drastica di eliminare completamente Ariraman dalla vita di sua figlia, proibendole persino di parlargli. Le parole della nonnina colpiscono Unkar nel profondo, rivelando l'entità del controllo e delle restrizioni imposte su di lei. È come se le sue ali fossero spezzate, privandola della libertà di seguire il suo cuore e di realizzare il suo amore. Unkar si sente intrappolata in una prigione invisibile, dove la sua felicità e le sue scelte sono subordinate al volere dei suoi genitori. Mentre la nonnina continua a raccontare, la sua voce è carica di frustrazione e rabbia, poiché conosce bene le conseguenze di questa decisione oppressiva. Sente l'obbligo di condividere la verità con Unkar, anche se può rivelarsi sconvolgente e dolorosa. Questa è la sua occasione per liberarsi dal peso dei segreti e svelare l'ingiustizia che si cela dietro le intenzioni dei genitori. Il passato ritorna vivo nella memoria della nonnina, che rivive le lotte e le battaglie affrontate da Unkar quando era giovane. Si immedesima nella figlia, poiché conosce bene la lotta per la libertà e l'amore autentico. Con ogni parola pronunciata, la nonnina intende dare a Unkar la forza e la determinazione per sfidare l'autorità imposta su di lei e cercare la propria felicità. Il racconto della nonnina si fa sempre più intenso, con sentimenti di ribellione e speranza che emergono nella sua voce. Unkar ascolta con attenzione, sentendo crescere dentro di sé una fiamma di rabbia e determinazione. Le parole di sua madre non fanno che alimentare la sua voglia di sfidare il destino imposto e di perseguire il suo amore con Hariraman. In quel momento, la nonnina si trasforma in una guida spirituale, offrendo a Unkar un'illuminazione e un coraggio necessario per rompere le catene dell'oppressione e lottare per la sua libertà. Questo racconto, che sembra provenire da un'altra epoca, apre gli occhi di Unkar sulla dura realtà e sulla lotta che dovrà affrontare per conquistare la sua indipendenza e il suo amore proibito. La nonnina aggiunge diverse parolacce e insulti, affermando che Unkar deve seguire ciò che loro le dicono per il loro benessere. La costringeranno a sposare onore a loro non importa se lei ama o meno, Fischli sanno solo che solo un diamant potrà darle la felicità secondo la loro perfezione. Facendola diventare la matriarca di Chova, diventando sua moglie, potrà garantire loro una vita agiata. Quindi, da quel giorno, suo padre e sua madre hanno preso questa decisione e i sogni di Unkar si spegneranno definitivamente. Alzando lo sguardo verso la figlia, che la guarda affranta ma anche sbigottita per il risveglio così lucido della madre. La nonnina la guarda con la stessa cattiveria e durezza di quel periodo passato, come se il male dentro di lei si fosse risvegliato di nuovo. Improvvise interruzioni nella narrazione. Aziz canticchia dolcemente, tornando all'espressione affettuosa che tutti amano. Sembra non sapere come sciogliere la tensione che si è creata in quella stanza. Demira guarda, cercando di interrogarla con gli occhi, desiderando sentire parole che annullino ciò che ha appena sentito. Per lui, quelle parole distruggono l'immagine che ha sempre venerato di suo padre come una persona buona e di potere. Le precise e taglienti parole pronunciate dalla nonnina disegnano un quadro di un uomo che ha abusato e violentato una ragazzina che poi è diventata sua moglie. Ancora peggio, ha continuato a maltrattarla, disprezzandola e umiliandola fino alla sua morte. Ha tradito continuamente il loro matrimonio, considerandolo solo una facciata agli occhi del mondo. Mentre lui viveva una vita parallela piena di avventure e scappatelle pubbliche davanti alla moglie stessa. La nonnina continua dolcemente a canticchiare, mentre Ancora cerca in vano di trattenere le lacrime che le riempiono gli occhi, ripensando a quei terribili momenti. Viene ulteriormente umiliata davanti a suo figlio, poiché ha sempre tenuto nascosta quella verità come un segreto, seppellendola con suo marito. Non avrebbe mai voluto che i suoi cari scoprissero la verità che svela quanto brutta fosse la persona che era suo padre. Sempre pronto a tradire Unkar con altre situazioni e storie, spesso vantandosi pubblicamente di queste avventure proprio di fronte a sua moglie. Questa volta parla di Unkar con un odio terribile, minacciando che se non accetterà di vivere in silenzio, saranno i genitori a trovare un modo per punirla. Continua a proferire minacce e parole brutte nei confronti di Unkar, accompagnate da numerosi insulti, come se stesse affrontando ancora una volta una ragazzina. Unkar ascolta tutto con il cuore affranto, ma nonostante il dolore che prova in quel momento, rimane accanto alla sua vecchia madre, prendendosi cura di lei con dedizione. Mentre ascolta le rivelazioni sconvolgenti di Aziz, una consapevolezza profonda si fa strada nella sua mente. Riconosce che entrambe hanno attraversato esperienze simili e hanno condiviso un destino comune. Le loro vite sono state segnate dall'amore incondizionato per un uomo che non hanno mai potuto mostrare al mondo intero, quell'amore che pur restando nascosto e non dichiarato, ha bruciato nel profondo dei loro cuori per tutta la vita. Unkar ha mantenuto viva la fiamma di quel sentimento, anche se represso e soffocato dalle circostanze. Nonostante le difficoltà e le umiliazioni subite, Unkar ha custodito gelosamente quel legame segreto e ha continuato ad amare quell'uomo silenzio a mente. È stata costretta a nascondere la verità e a sopportare la sofferenza causata dal suo amore proibito. Ma il fuoco della passione non si è mai spento dentro di lei. Ora, mentre la nonnina continua a cantare dolcemente e la tensione si diffonde nella stanza, Unkar si rende conto che lei e sua madre condividono una forza interiore e una resilienza straordinaria. Hanno sopportato le avversità della vita, i segreti e le ferite, ma sono rimaste salde nel loro amore segreto. Unkar non può cambiare il passato e le scelte sbagliate dei loro genitori, ma finalmente comprende la sua connessione profonda con sua madre. Si sente meno sola e trova una sorta di conforto nell'aver trovato una compagna d'animo in sua madre. Insieme, continueranno a sostenersi a vicenda nel cammino tortuoso che hanno percorso, affrontando le sfide con coraggio e determinazione. Il video si avvia alla conclusione, e Unkar rimane immobile, con gli occhi gonfi di lacrime, riflettendo sulle verità sconvolgenti che ha appena appreso. È pronta ad affrontare il futuro con una nuova consapevolezza e una forza rinnovata, pronta a rivelare il suo vero io e a perseguire la felicità che le è stata negata per troppo tempo.